ciao benvenuti al secondo episodio di mia calignaia stagione 2020 calignaia 28 giugno 2020 il primo giorno di mare in era covid la spiaggia a mio avviso è davvero troppo piena di persone le distanze non mi sembrano proprio rispettate c'è proprio il pienone e soprattutto nessuno indossa una mascherina ancorché bianca mio avviso andiamo male molto male comunque a parte questo oggi sintetizzerò le due vie di accesso alla spiaggia di calignaia la prima via di accesso è quella andando in direzione sud sulla statale aurelia svoltando a destra sul fuoristrada nella strada chiusa sotto al ristorante c'è libero parcheggio gratuito basta non parcheggiare davanti all'albergo posti auto sono infatti riservati agli ospiti via di accesso alla spiaggia è quella che vedete a video basta seguire il sentiero andando sempre dritti ignorate le scale alla vostra destra e invece proseguite dritti seguendo appunto il sentiero arriverete poi sulla vecchia strada romana che si infrascherà nella macchia mediterranea che poi vi condurrà alla spiaggia se volete invece sostare sul fianco sinistro sugli scogli della baia di calignaia allora quando trovate le scale alla vostra sinistra scendetele il sentiero vi porterà sugli scogli lato sinistro della baia di calignaia la seconda via di accesso in direzione sud occorre svoltare a sinistra si accede alla vecchia strada della cava di calignaia da un paio d'anni e in usa un'associazione livornese occorre una tessera dell'associazione per parcheggiare nell'area si accede alla strada più lunga e più dolce che conduce appunto alla spiaggia di calignaia arrivando sul lato destro della buona 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 Musica Musica